Marchigna 99 Salmorejo Aessino Questi qua sono tutti spagnoli Ciao baffinista Sì abbiamo giocato il gameplay Oggi ho fatto una pentagli con Samira Adesso è stato difficile A full HP Ci serve l'oggetto con la goccia Quintus Approach Beh sono tanti HP Effettivamente Sono tanti HP Quasi quasi ci può stare Io però la Bistal c'era già Ma sì dai facciamolo O almeno facciamola goccia poi vediamo Goccia poi vediamo Goccia poi vediamo Gamer Kater Uvu Snans 250 Oddio Cazzo Il microfono non c'è perché è andato a tuttane Ah la schiena Crick crack ha fatto Interessante Grazie Grazie Valvo E Tridente Eroginito Grazie dei sub ragazzi Grazie mille Anche se voi non lo vedete A 1850 sub C'è gioco lol col volante Ricordatevelo Ricordatevelo Ok Devo pullare immagino Direi proprio di sì Diamo gli un pullettino qua Ecco qua Ciao Che in blue buff Bah si è mai visto Anche lui giocherà di hp Quindi facciamo i I bro laners Dammi il grasp Dammi il grasp Perché lui mi fa tutti sti danni Forse per lui ha effettivamente un oggetto Quanto di me che c'ho un oggetto di merda Ah ma non c'ho ancora il 2 io Ok Mi va bene C'ho la passiva Posizio qua comunque un po' sa muoversi Belli 20 hp ogni minione che kill Ok Belli Altri 2 minione presi Gli alleati partono Questo sarà un chogat full hp Ho fatto clip rende purtroppo Bei danni comunque Belli Piacevoli Sono 3 minore 3 miglia Insegni a giocare Uguale di Grazie Nazzuio per i 3 mesi Come posso insegnarti a giocare Se non so giocare io Grazie nel sub Ok Meno male che non è intelligentissimo Meno male Meno male meno questo Comunque lì il problema principale è che sono strattato con la goccia ragazzi Cioè è rettente come giocare senza oggetto Perché la goccia non ti dà nessuna stats che ti aiutino Effettivamente potevo non strattare di goccia Però ho detto vabbè siamo in iron E invece qua è quando sottogliti gli iron che quando meno te l'aspetti che vieni punito Ho abbassato la guardia e l'iron mi ha punito Mai abbassare la guardia Chi è questo? Ah è lui E perché qui anziché prendersi la sua tripla wave sotto torre? Eh questa è una bella domanda ragazzi Ah proprio Ah quella lì proprio non la vogliamo quella wave Ciao Fieric come stai? Ok Starò qua io ho sustain In realtà anche lui grazie alla sua bella passiva Ah Ok Ok Io faccio il 6 prima di lui quindi Dovrebbe rispettare un po' di più Cioè ma questo sa pure doggiare ragazzi Questo non è iron Cioè oddio no è iron Però forse non sale perché gioca un champion di merda effettivamente Questo è iron ma Gioca a horn Mettiamola così Vabbè niente Comunque cioè È bravo col suo campione per essere iron Grazie Gabibbo Sto bene bro Grazie mille Grazie a Afin Grazie a 9 mesi Bentornato anche a te Grazie tante E il 6 lo ha fatto prima lui Sì è iron ragazzi Cioè ha givappato una wave intera col carretto Per venire a interromper il mirror call È iron È morto prima a caso C'era ancora il flash È iron Allo stesso tempo Ha delle meccaniche E poi gioco un campione che in iron C'è È utile quanto Non lo so Una scopa nel deserto Cosa vuoi fare in iron con un tank C'è i mordekaiser che Praticamente per quanto combatte essere full a tank È uguale a horn Eccolo lì Molto bene ragazzi Gioco a lol Ma il mio team gioca più di me Parte 2 Qua ho usato la ult Ignorando che lui potesse rimanere in lane come un idiota Cioè dai Questo qua ragazzi Non è mai nella vita smarf Nel senso Ok Cioè Alterna delle play carine Tipo quella lì dove mi ha killato prima Sotto torre con il flash e quant'altro A questo Vabbè Copriamo il demo E scendevo back Tuk Quei danni Tuvo prendere un'altra plate Effettivamente Vabbè No che arriva Sì l'avrei preso un'altra plate Forse No non me l'ha data Mannaggia Vabbè Potevo prenderla My bad Ho sottolotato la quantità Il quantitativo abnorme di minion Che c'avevo Ovviamente niente scarpe Ragazzi Sa chiaro Le scarpe qua Non si buildano 1200 gold Mi servono Presto coso Va bene Tanks sono lenti Esatto Si è mai visto un tank veloce Tranne Garen Un saluto al Mojje Bella Leop Grazie mille del sub Grazie mille caro Molto gentile Un saluto al Mojje Come sempre Ci prendiamo Ok Niam Molto buono Grazie Molto grazie Molto grazie Molto E grazie Queste partite Sembrano troppo seri Ragazzi Non so Che bella schicchera Io qua Maxo W Sinceramente So No Non mi aiutate Ok Grazie Oh Oh Tuk 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 Alla che Eh Si lancia Ok Niam 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 Qua era Palese Si sarebbe lanciato Minchia puole Vabbè ragazzi Altro episodio In cui il mio team È sbroccato Vabbè Pace Qua non so quanti HP Riusciremo a farci Sinceramente Oddio Ma sto fight È infinito Ragazzi Sto fight È infinito Ragazzi Va bene Back Abbiamo l'Hardsteel Dobbiamo prendere gli HP I don't think He can't Quella È una Delle citazioni Più belle Ormai è entrata Nei nostri cuori E Molto bene Direi una bella Abyssal Masca adesso Così Passa a pace Da air Fai team di fieri Ma momenti Sono momenti In cui ho tipo Una streak Di team Che Cioè Non lo so Sembra letteralmente Che io Non riuscirei a perdere Nemmeno se mi mettessi Non lo so A griffarli E altre volte In cui ho dei team Che sembrano usciti Dall'uovo kinder Cioè Ormai Le partite Quelle Slow Dove Vanno tutti più o meno Tipo 2-3 4-2 Tipo Così 0-0 0-1 Ma è quelli Partiti Sono rarissime Ok Ma sarà stata Una buona idea Caro amico Horn Questa è la domanda Che tutti noi Ci stiamo ponendo In questo momento Ecco qua Non lo è stata Non lo è stata Unlucky Eh Eh Io maxo W perché Il silence Dura tantissimo Ma Cioè Più in mano Ha più danno Cioè Abbassa anche il cooldown Anche se Maxi la Q Fa solo più danno Diciamo Non sei full AP Un conto Ma Full HP Non è così tanto Eccitante Se ci pensate Unlucky Sacchete Non si spacca La testa Peccato Quindi ora Sono qua vicino Vai Ok Oh ma c'è Un signore nuovo Ecco qua Buongiorno C'era il signore Nuovo Ragazzi Un nuovo sfidante Appare nella landa È Luciano No È morto Povero Luciano Arriverà Shinzo Immagino Eccolo lì Eh Possa intelligente Il nostro Shinzo Che Desce appena in tempo Eh E la ruba così Va bene Lo che me questa Mantenerte Con vida Iaiaiaia Che bello C'era di spagnolo È arrivato Sergio Stai andato subito Purtroppo è arrivato Un sacco È arrivato anche Gianni Purtroppo lì Ci ha chillato Vabbè Live full proxy Ma questa non è proprio proxy In realtà Arrivo Killing spree È stata un'ottima idea Complimenti Ecco qua Gragra Gragra Ma di casa 8 Ragazzi Intanto una buona notizia Ecco niente Ha detto Unintanto una buona notizia Un mio alliatto è morto Niente Double kill Vabbè Grazie Cecco Grazie Se il sub Lei è molto gentile Grazie mille Dobbiamo fare ancora due Nom nom sui minions Ho messati un sacco Questa la Scassiamo totalmente Ma qui che pizza Abbiamo tirato Vieni qua No no Vieni qua Miam Eh 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 Gianni Sergio Tutti c'hanno Famiglia catapulta Al completo C'è noi gli allati Stompa Non c'è nessuno Che gioca contro di loro Ah Vabbè Vabbè Mille gold Indisturbati però Indisturbati Ma l'astra pietra è buono Che cazzo è Che cazzo è Lato positivo che se hai shutdown Forse la pratica dura di più Forse si Forse hai ragione Più che altro io per esso Kill Ah no Eh manca solo lux È vero Sì Gargoyle Ah La gargoyle dà Zero hp No Cioè di base è buona Però noi stiamo facendo Chogat full hp E la gargoyle Non dà hp Purtroppo Non va bene Ok Molto bene Dobbiamo mangiare anche questi Che ricordiamo Possiamo mangiarne sei in totale Poi non spero più stack Siamo a tre Ehm Double kill Niente Non c'è niente da fare Wormox Allora Facciamo questo oggetto Possiamo fare la warmog Che ci dà 800 hp La titanic E così ci dà anche tantissimo danno La maschera Non penso la farò Perché è un po' troppo facile Con la maschera Quella maschera Non dà tantissimi Non sto abitando Di fare più hp possibili La maschera ce ne dà 350 Ecco Cioè sto a fare qua Che fa un oggetto di merda Che però ne dà 650 Eccolo qua Il campione dei campioni Cosa potrebbe mai andare storto Ingaggiando questo Chogat 1v1 E' lui E' Gianni E' Gianni E' Gianni Gianni in chat Mi ha preso Quanto drastici c'è Vabbè comunque me ne vado Totalmente indisturbato Alla fine C'è Gianni C'è Gianni Ma sta succedendo Non riesco a muovermi Affanculo Gianni Preso Net Un fight durato 25 secondi Ma di più in realtà Perché qua si è perso l'aggro Ma E' durato un bel po' Questo fight Oh questo ci dà 567 hp Non male La visage pure E' tanta roba Però dà solo 450 C'è da dire che Mi farebbe molto Molto comodo La dead man's plate Perché mi dà Moving speed Effettivamente Però Sti cazzo Ah la war room Posso farla adesso Ma Mi serve? Però magari faccio La titanic No? Ha più senso O tanto Intrame si fanno con questi Decido Tipiamo bot Inizio a essere bello grande Ragazzi Inizio ad essere Dimensioni notevoli Intanto 11.2 Il nostro mid laner Valla qua Ah 1600 danni Niente male Stompi troppo Sare di titanica E' vero Hai ragione Anche te Tanto non vedo Differenze Nesta gente Con il mio team Qua siamo A 3 e 1 Quindi 4 Abbiamo altri 2 minion Barra mostri La giungla Da mangiare Di ulti Oh ma c'è Di tanto Un alleato Che muore Oh Finalmente Cazzo Ma vi senti No ok Ciao Eh No l'ho preso Oddio Basta Succedendo Eh Ci capisco Qualcosa Vabbè Qualcuno L'ho mangiato Va bene Va bene Cazzo Penso farò titanica Ragazzi Così farmo di più Tanto il mio obiettivo E' arrivare a full build No quindi Cioè far prima l'uno O l'altro Se faccio più una titanica Farmo meglio Sì La duo trolpi Che preferisci Sai che non lo so Sinceramente Una volta Ti avrei detto Trinda GP Quella bot Assurda Che faccio ai tempi Con the game Con il doppio oggetto Da support Era speziale Speziale Proprio Speziale Cosa voglia dire Poi c'è stata la botta Degli alberi Che però Hanno pesantemente Nerfato Perché Mokka È diventato Super in meta L'angolo rottura È Diventa noioso A un certo punto Nuno Sion È veramente divertente Nuno Sion È davvero bella Non lo so Ce ne sono tante In realtà Non saprei dire Ti vuole quella Che preferisco Sicuramente Un tempo Ti avrei detto Trinda GP Trinda GP Era veramente Se io lascio i miei alleati Giocare 4v5 Stompano comunque La risposta è Ovviamente sì Che domande Sotto torre Ma tranquilli Proprio 4v5 Sotto torre nemica Si stompa ovviamente Il buco del culo Degli avversari È giusto che sia A Mordekaiser Si tanca la torre Xin Zhao È saltato in aria Nessuno l'ha visto Bene E ho raggiunto La dimensione massima Con le stack Di ulti Sui minion Toc Un buon dan No niente È uno di quei game Ragazzi Oh no Lucian Non devi fare Tutto sto danno Per favore No Lucian no Lucian no Mi fai male Guardate quanto è lento Ma anche quanto è Inesorabile Questo Chogart Ok Se riescono a Killarlo in c Oh Minchia Mi fa piacere che hanno 30 cappi a testa Vediamo se riesco Ad andare a mangiare Qualcuno Guardate che belli Venite che vi mangio Venite qua Dove siete Fatevi mangiare Fatevi mangiare Non penso Non penso Vogliono farsi mangiare Lux Ecco qua Ok 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 Preso HP da tutti Ho preso HP da tutti Oh si L'ha preso Stompatela Niente Niente Eh flasher Stavo aspettando Il momento giusto Che comunque Anche se flasho Cioè se non sono In range Perché io sono lentissimo Ragazzi 345 Quindi tutti possono Perché mi sono così Lui non ha le scarpe Non ha le scarpe Ma le scarpe Proprio non vanno di moda In questo elo No scarpe No scarpe Poi io no scarpe Ovviamente Tutti altri hanno le scarpe 06 support Ma non è che qualcuno Sta bilanciando Darksteel cosa fa Ti dà HP perennie Ok E quando sei vicino A un nemico Gli carichi un colpo Che fa danno In base alla tua vita E il 10% Di quel danno Lo tramuti In HP perennie Quindi più HP hai Più danno fa sto colpo Puoi ha un cooldown Singolo per i campioni Quindi puoi Proccarlo su tutti i campioni Di fila A 30 secondi Cooldown A campione E non globale E in questo momento Io ho 743 HP Bonus Soltanto dalla passiva Appena faccio il 16 Decollo con gli HP Ma non so se ci arriverò Al 16 Non so se ci arriverò Al 16 No Stavo per mangiarlo Proprio Alla velocità della luce Eh qua Mi sa che si chiude Ragazzi Ma non si può far nulla Sono sempre strafidati I miei alleati Cioè Ditemi che è così Anche da voi Non può essere Che soltanto i miei alleati Sono sempre così forti Dico bene ragazze Niente Non si arriva al 16 Vabbè L'obiettivo è Arrivare al 16 Ma non ci arrivo Perché stanno Stompando tutto Adesso E niente Oh eccomi 9200 HP C'ho praticamente Ok Non male Ora possiamo vincere Cioè Volo arriva a 10.000 Però non è possibile A quanto pare Va bene lo stesso E ping al bar Grazie ciao Le scarpe non fanno danno Le scarpe Non ti danno HP Puoi essere full HP Se le scarpe non ti danno HP Ah è un oggetto in meno Che ti dà HP Ah non sei full HP Cosa pensa il nuovo Zelda Penso che lo giocherò Ma per i cazzi miei Con molta calma Tipo quest'estate Quando non ho voglia Non voglio lasciarlo E non voglio portarlo in live Io 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 Onor Salmone Perché è l'unico Che ha fatto schifo del team Non è possibile Gioca sempre con gli alleati forti Ragazzi No Possibile No Possibile Possibile No 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 No